Chiedo scusa per la mia azione per aver danneggiato delle persone agli Stati Uniti e con queste parole che Braden Manning, il militare americano che ha trasmesso migliaia di documenti al sito Wikileaks, si è rivolto alla corte marziale. Manning ha accusato di decine di capi d'accusa tranne l'alto tradimento e in attesa del verdetto.